Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo parlando della morsa del maltempo, una morsa che sta attanagliando la nostra regione da oltre 24 ore, neve, gelo, temperature anche polari, ovviamente tanti disagi in particolare alla circolazione. Intanto facciamo un primo punto della situazione con il servizio di Francesco Romanatesti e poi daremo ulteriori aggiornamenti. Ondata di maltempo in Abruzzo, freddo, neve e raffiche di vento su tutta la regione con fenomeni più severi nell'entroterra. Nella serata di ieri è stato dichiarato il codice rosso per la situazione riscontrata sulla A14 con il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Disagi chiusi al traffico per le abbondanti precipitazioni, la statale 17 della Penina Abruzzese dal chilometro 107 al 149, la statale 5 Tiburtina Valeria dal chilometro 135 al 155, traffico rallentato per il nevischio sulla statale 714, tangenziale di Pescara dal chilometro 0 al chilometro 5 e 6. Nella mattinata è stata comunicata la chiusura dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo fino alle 13, problemi di circolazione anche per la società di trasporto Unico Tua che nella serata di ieri ha comunicato l'interruzione delle corse per Torricella, Pizzoferrato e Montenero Domo per la provincia di Chieti e per Isola del Gran Sasso dove un bus ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Forti nevicate nell'Aquilana, Sulmona, 60 centimetri di neve, un metro a Roccaraso e neve in tutti i comuni della Valle Peligna. A Roccaraso si circola con gomme termiche o catene, a lavoro mezzi spargisale ma si prospetta un weekend soleggiato e pieno di neve per gli impianti sciistici. Imbiancata anche la costa pescarese che non ha riscontrato particolari criticità per la viabilità tranne le segnalazioni riguardanti i detriti portati dalle forti raffiche di vento. Problemi invece per i colli dove ieri si è registrata la temporanea interruzione del servizio elettrico e la formazione di ghiaccio nelle strade interne. Chiusi con un'ordinanza da ieri e fino al prossimo 7 gennaio parchi cittadini e cimiteri per evitare la caduta di rami. L'autostrada che collega l'Aquila e Pescara con Roma è percorribile solo con dotazioni antineve. A Lanciano il ghiaccio è il maggior pericolo riscontrato nella mattinata sull'intero comprensorio frentano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia per le auto in panne. 10 cm di neve in centro e 25 nelle zone alte. A Tessa ha raggiunto quota 50 cm di neve che raggiunge il metro nel medio-alto sangro come Pizzoferrato, Monteferrante, Schiavi d'Abruzzo e Castiglione-Sermarino. Nevicate abbondanti anche sul Terramano dove operativo il piano neve della provincia di Teramo che rende nota la presenza di 44 mezzi privati contrattualizzati con il servizio a chiamata e monitorati con il GPS che consente tracciabilità dell'operato e razionalizzazione negli interventi. Particolare attenzione viste le previsioni meteo è dedicata alla costa dove i cittadini sono meno abituati ad affrontare buferre di neve. Presidiata tutta la montagna e in due zone le provinciali che conducono agli ospedali di Atri e Santomero sono previste postazioni fisse per far fronte ad eventuali situazioni critiche. I mezzi dell'ente presidiano la 259 della Vibrata. Nel servizio si parlava della chiusura odierna dell'aeroporto d'Abruzzo ebbene è stata disposta una nuova chiusura dell'aeroporto. Lo scalo in base alle vorversi delle condizioni meteorologiche tornerà operativo non prima di domani. Restano a terra i passeggeri del volo per Francoforti in attesa di partire da oltre 30 ore e di quelli per Torino e per Bergamo. Una breve riapertura dello scalo all'ora di pranzo ha consentito l'atterraggio del volo proveniente da Torino e la partenza di quello per Londra. E' stato invece dirottato su Ancona l'aereo in arrivo da Tirana che è ripartito per l'Albania sempre dal capoluogo marchigiano con il trasferimento in pullman dei passeggeri da e per Pescara. La saga si sta occupando dell'assistenza a terra dei passeggeri, molti dei quali verranno trasferiti negli alberghi della zona. Poi Anas fa sapere che in Abruzzo sono state riaperte alla circolazione la strada statale 5 Tiburtina Valeria dal chilometro 135 al chilometro 156,7 e la strada statale 16 Adriatica precedentemente interdetta tra i chilometri 504 e 505 per mezzi pesanti di traverso a seguito della chiusura del tratto autostradale A14 a Vasto. Resta chiusa per bufera di neve la strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese dal chilometro 107 al chilometro 149. E poi vi avevamo accennato in precedenza, vi avevamo detto temperature polari nella nostra regione. Ebbene al rifugio Franchetti sul versante terramano del Gran Sasso, 2433 metri di altitudine, il termometro secondo le rivelazioni dei sistemi ACU Caput Frigoris alle ore 16 e 50 ha raggiunto i meno 19,9 gradi. A Carsoli in provincia dell'Aquila 605 metri sul livello del mare la temperatura è scesa fino a meno 17,8 gradi. Sul monte Gensana 1980 metri ci sono meno 17,4 gradi. All'Aquila le diverse stazioni di rilevamento registrano temperature che vanno dai meno 4 ai meno 6 gradi. Anche nel Pescarese temperature al di sotto dello zero. A Montesivano meno 0,8 gradi. A Cepagatti meno 2,9 gradi. Nel Chietino il record si registra a Macchia di Taranta a 1700 metri con meno 14,1 gradi. Mentre a Cietti la temperatura media registrata è di meno 5,1 gradi. E ora ci occupiamo più specificamente della situazione a Pescara con le dichiarazioni del vice sindaco Enzo Del Vecchio. Centro operativo comunale di Pescara, operativo da ieri sera alle 20. Sono stati diffusi tutti i numeri per segnalazione e richieste di aiuto. Come procede la vigilanza sul territorio? Non abbiamo avuto una criticità legata alla neve, diciamo in senso puro, ma al freddo, al ghiaccio. E quindi abbiamo sparso tantissimo, veramente tantissimo sale, tant'è che ci stiamo ancora approvvigionando per prevenire anche la prossima nottata, chiamiamola così, che è quella ancora che ci darà qualche problema di criticità per quanto riguarda il ghiacciarsi delle strade. Non abbiamo avuto difficoltà sul traffico veicolare in nessuna zona, però ogni tanto c'è qualche segnalazione di difficoltà e quindi interveniamo singolarmente anche a chiamata diretta per sopperire alcuni disagi che si incontrano da parte dei cittadini. Da quali zone provengono la maggior parte delle chiamate? La maggior parte delle chiamate sono o i colli alti, oppure ecco in questo momento stiamo intervenendo in via San Michele, che è una stradina piccolina con un bobcat attrezzato con uno spargi sale, dopo aver fatto tutte le strade principali chiaramente, oppure nella parte di San Donato Alto. Sono le ultime stradine residue e poi riprenderemo a percorrere, o meglio, già si sta ripercorrendo le strade più a scorrimento veloce, perché la temperatura, insomma, sale scende intorno allo zero e quindi c'è sempre preoccupazione della formazione del ghiaccio. Però una volta, come dire, buttato, gettato il sale sulla strada, insomma, questo ha un effetto non limitato in poco tempo, ma si protrae per un certo periodo di ore. Al momento non abbiamo registrato criticità né nella sala operativa del COC, né nella vicina sala operativa della Polizia Municipale. Qualche intervento in più abbiamo dovuto fare per il vento che ha divelto diversi segnali stradali, qualche transenna, qualche barriera in cantieri, insomma, questione di altro tipo di pericolo e stiamo intervenendo con gli operai su questo tipo di nuova emergenza. Parlando anche di vento, c'è stata un'ordinanza firmata sempre nel pomeriggio di ieri per la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri. Sì, chiaramente non siamo entrati per verificare se ci sono danni, lo faremo sicuramente dopo, ma oggi ci stiamo occupando, diciamo, delle aree libere. I parchi e i cimiteri li abbiamo tenuti chiusi, devo dire, a ragione, visto le temperature abbastanza fredde e quindi con la possibilità di caduta di rami, ne abbiamo avute un po' su strada del palazzo e stiamo intervenendo con gli operai del Comune. Abbiamo il problema della sabbia sulla riviera, insomma, cartelli pubblicitari buttati a terra o anche qualche luminaria che si è staccato i fili. Insomma, tanti piccoli interventi, ma stiamo operando, diciamo, senza soluzione di continuità, anche se per prepararci alla serata qualche squadra abbiamo allentato, diciamo, la pressione e quindi qualche squadra adesso è a riposo. Disagi anche per la marineria a Pescara, ascoltiamo le parole del rappresentante degli armatori, Mimmo Grosso. Con il maltempo sono arrivate anche le raffiche di vento, la preoccupazione della marineria era proprio quella delle imbarcazioni, sono state spostate a causa dell'insabbiamento, si trovano alla banchina a nord del Molo a Pescara, ma la situazione come sta evolvendo? La situazione, pensavamo, molto peggio, perché adesso i venti spiegano la tramontana, non sono proprio da nord-est. Tante imbarcazioni della banchina a sud sono venute ad ormeggiarsi a nord perché si sta meglio. Tante imbarcazioni di Ortona sono venute, che fanno base a Ortona, sono venute nel porto di Pescara e niente, la situazione fino a che rimane così è ancora sotto controllo. Poi se dovesse girare da nord-est allora cominciano i guai, anche perché molte imbarcazioni si muovono tantissimo dagli ormeggi. Poi adesso appena ci sarà un attimo di calma chiederemo al comandante Moretti di fare un rilevamento badimetrico all'imboccatura per assicurare l'uscita e il rientro, perché dopo questa tempesta la situazione sicuramente sarà molto più critica di prima. Il comune di Montesilvano ha attivato il COC, il centro operativo comunale per la pianificazione dell'emergenza neve che sta interessando la città. Mezzi e uomini continuano le operazioni per liberare le strade dalla neve e dal ghiaccio, si raccomanda la massima prudenza. I cittadini sono invitati a non uscire se non per casi strettamente necessari, a non utilizzare le autovetture se non con gomme termiche o catene montate. Attivi per segnalazioni i numeri di telefono che in precedenza abbiamo visto, in sovrimpressione possiamo riproporli, 085 44 81 259 e 085 44 50 977. Per quanto riguarda sempre il comune di Montesilvano, dalle ore 12 di ieri fino alla mezzanotte di domani, ricorda il primo cittadino Francesco Maragno, abbiamo inoltre disposto il divieto di ingresso in tutta la Pineta per salvaguardare l'incolumità delle persone a causa della stabilità degli alberi che la neve potrebbe compromettere, oltre che il divieto di parcheggio nelle strade adiacenti e attraversanti la riserva. Sempre fino alle 24 del 7 gennaio abbiamo disposto la chiusura di parchi, giardini pubblici e del cimitero comunale, nonché il divieto di accesso in giardini e parchi non recintati, poiché il vento forte, la neve o il ghiaccio potrebbero causare situazioni di pericolo. Ed ora il punto della situazione in provincia di Pescara, in particolare nell'area vestina. L'annunciata perturbazione nevosa dell'Epifania è arrivata e si sta battendo sull'area vestina già dalle prime ore del pomeriggio di ieri, con nevicate consistenti, vento forte, anche se il pericolo principale però resta il ghiaccio. Nei principali comuni dell'area la situazione è sotto controllo, grazie anche alla tempestiva apertura dei coc per la segnalazione delle varie problematiche. L'accumulo più rilevante si regista nel comune di Farindola, dove la coltre bianca si aggira sui 40 cm. A Penne si lavora incessantemente dalle ore 15 di ieri per liberare le zone e le vie di accesso che portano al nostro comio vestino, grazie al costante aiuto della protezione civile, Croce Rossa e Soccorso Alpino. Sono rimaste senza corrente le contrade di Colle Stella, Colle Maggio, e invece restano isolate alcune abitazioni nella contrada di Roccafina d'Amo, dove si è abbattuta una vera e propria bufera di neve. Le previsioni danno neve anche nelle prossime ore, con temperature bassissime e quindi inevitabile formazione di ghiaccio, e per questo la provincia, che sta costantemente monitorando la zona e lavorando per pulire le principali arterie con mezzi spazzaneve e spargisale, sconsiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Ondata di maltempo che interessa anche la provincia di Teramo, l'interno ma anche la costa, in particolare nel triangolo Silvi-Pinetto-Atri. Giornata impegnativa per le cattive condizioni atmosferiche su tutta la provincia di Teramo, con forti raffiche di vento e neve e temperature sotto lo zero. I mezzi dell'ente, quelli delle 44 imprese esterne, sono tuttora impegnati sulla lunga rete provinciale per garantire la transitabilità. Da ieri sono al lavoro complessivamente 83 mezzi per mantenere pulite le principali vie di accesso e spandere il sale. Ad Atri, sulla provinciale 553, gli operatori della provincia e la Polizia di Stato sono dovuti intervenire per far ripartire un camion al quale si sono rotte le catene e che è rimasto fermo sulla carreggiata, bloccando il transito. Nel triangolo Silvi-Atri-Pinetto si sono registrate le situazioni più difficili a causa di una bufera di neve che si è placata solo nel primo pomeriggio. Spazzaneve e sale anche in vibrata, dove le strade più critiche sono la provinciale 8 e la provinciale 3. Preoccupazioni per le prime ore del mattino di domani, viste le temperature sotto lo zero, è considerato che la provincia in queste ore ha devoluto circa 1500 quintali di sale ai comuni che avevano terminato le scorte. Disaggi inevitabili con condizioni atmosferiche così avverse, ha dichiarato il presidente della provincia Renzo di Sabatino. Per questo è necessaria la collaborazione dei cittadini. Anche il sale con temperature sotto lo zero non riesce a svolgere la sua funzione e a sciogliere il ghiaccio che comunque si riforma un attimo dopo. Tutti devono usare catene e gomme termiche anche quando la strada è sgombra e ci sono pericolosi tratti di ghiaccio. Circa le evoluzioni delle prossime ore, il punto con il nostro meteorologo Luca Mennella. Per quanto riguarda le precipitazioni che sono previste nelle prossime ore, dalla mappa delle precipitazioni previste fino alle 12 di domani pomeriggio, risultano ancora piuttosto intense, soprattutto per quanto riguarda il medio e il basso Adriatico, dove sono attese ancora delle nevicate. Le temperature sono in ulteriore lieve diminuzione fino alla giornata di oggi, poi da domani tenderanno lentamente a salire per poi attestarsi su valori medi nel corso della prossima settimana. E in conseguenza del maltempo e delle previsioni che annunciano il protarsi di questa ondata, domani a Teramo non si terrà il mercato settimanale del sabato, che sarà recuperato in data che verrà comunicata successivamente. E ora chiudiamo il giro di verifiche nei vari territori abruzzesi e ascoltiamo le parole del primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, e le criticità che si sono registrate nella città teatina. Guardi, qui abbiamo un problema serio, perché Anas e in parte la provincia non stanno provvedendo a pulire bene la strada di collegamento. Noi stiamo lavorando intorno a tutta quell'area, se dovesse persistere questa non attività da parte dei due enti, provvederò io a far pulire quell'area, ma sarebbe opportuno che ognuno di noi coprisse le aree di propria competenza e quelle particolarmente sensibili, quali l'area ospedaliera. È ovvio che se dovesse non essere previsto l'intervento da parte loro nel bellissimo termine, interverremo noi senza difficoltà. Sto invitando tutti a non uscire se non è necessario, soprattutto perché le condizioni sono per davvero proibitive in questo momento. A non uscire assolutamente se non si è idoneamente attrezzati, le gomme lisce termiche non funzionano, quindi è importante che si sia idoneamente attrezzati, catene o gomme termiche da neve, invernali, che siano buone. Altre segnalazioni non ne abbiamo di verità, abbiamo però fatto in modo che fossero raggiunti alcuni cittadini che avevano bisogno di cure mediche, che si trovavano in zone non ancora spazzate e abbiamo proprio tutti noi a trasportare dei cittadini che avevano cure di dialisi da effettuare o ultimamente abbiamo aggiorato l'attività di un assistente sanitario che doveva raggiungere dei pazienti per l'assistente domiciliare. Lasciamo l'ampia pagina dedicata al maltempo. Sono lievemente migliorate le condizioni della donna marsicana di 51 anni, ricoverata da mercoledì scorso nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano per una forma piuttosto rara, ma non contagiosa di meningite, la listeria monocitogenes. La paziente, assistita dall'equip guidata dal dottor Maurizio Paoloni, resta in prognosi riservata in pericolo di vita e viene trattata con terapia antibiotica. Tra i piccoli segnali positivi rispetto alla giornata di ieri c'è al momento un calo dei valori della febbre. Le condizioni restano però molto gravi e dunque i medici mantengono una posizione di grande prudenza sull'evoluzione del quadro clinico. Gli specialisti ribadiscono che la forma di meningite da cui è affetta la donna non è contagiosa. Restano stazionari rispetto a ieri invece le condizioni dell'uomo di 84 anni ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona dal 28 dicembre scorso per una meningite pneumococcica, una forma non contagiosa. Il paziente resta in prognosi riservata, persiste l'infezione e lo stato febbrile, ma respira in modo autonomo ed è cosciente. Proseguono i trattamenti terapeutici. E ora andiamo all'Aquila, come ogni anno si fa la conta delle incompiute misteriose. Tra queste i due colossi nella popolosa frazione di Paganica, il Palatenda e il Palazzetto dello Sport. E ora c'è chi accusa direttamente il sindaco, Filippo Tronca. Chi ha scritto quel cartello davanti al teatro tenda è un cretino, piuttosto si informi. Così il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialenta, ammiccando la famosa battuta di Totò, commenta il cartello con la scritta Aguri, sindaco queste due opere sono la tua vergogna, affisse sui cancelli del teatro tenda di Paganica, davanti al Palazzetto dello Sport, Papa Giovanni XXIII, che sorge dal lato opposto della strada. Due storiche incompiute, il teatro tenda aversi stato di abbandono da vent'anni dopo il terremoto nel 2013, i sindacati confederali hanno donato circa due milioni di euro, ma i lavori ancora non partono. Il Palazzetto dello Sport, Papa Giovanni, è stato realizzato grazie a una donazione della Caritas diocesana di Bergamo, inaugurato nel giugno 2012, ma ad oggi anche questa struttura non è stata aperta. Il sindaco, premettendo che per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport, la partita è tutta in mano alla Caritas, riferendosi al teatro tenda, conferma che ci sono tutti i fondi disponibili, i 2 milioni di sindacati più 1,2 milioni di euro assegnati ad agosto dal Cipe. E sottolinea che il bando era pronto già inizio 2016, poi però ad aprile è arrivata la iattura del nuovo codice degli appalti, che è in posto di ricominciare l'iter da capo con le nuove regole, che prevedono ben tre bandi, uno per i professionisti che devono fare il progetto esecutivo, un secondo per la commissione che deve validare il progetto, un terzo bando per assegnare l'appalto. Questo è uno strano paese, commenta Cialente. Il bando era pronto a primavera, a quest'ora stavamo già aprendo le buste, poi però ad aprile è arrivato il nuovo codice degli appalti, senza nemmeno prevedere una norma transitoria. E così siamo stati costretti, come tante altre amministrazioni, a ricominciare l'iter, tra l'altro molto più tortuoso di quello che era previsto. E sindacati, aggiunge infine Cialente, giustamente preoccupati per le sorti della loro donazione, abbiamo illustrato le complicazioni intervenute, non dipendenti certo dalla nostra volontà, ma confidiamo che in meno di un anno possano cominciare i lavori, crociando le dita, perché poi c'è sempre il rischio dei ricorsi delle imprese escluse. E restiamo all'Aquila, ma cambiamo argomento, boom di presenze alla 69esima edizione della Fiera dell'Epifania. Nessun incidente, solo qualche borseggiatore, comunque pizzicato. Vediamo il servizio. Circa 30.000 persone alla 69esima Fiera dell'Epifania, nonostante la nevicata che ha spolverato l'Aquila nel primo pomeriggio, e gli spazi ridotti, visto che molte strade e piazze del centro storico sono state lasciate vuote per motivi di sicurezza. Un successo comunque, secondo gli organizzatori della Federazione Ambulanti, la FIVA, della ConfCommercio, e il presidente Alberto Capretti ora punta a coinvolgere anche la regione Abruzzo in vista del settantesimo anno della Fiera. Dovrà essere una festa, un'edizione speciale, vogliamo tornare a sfondare quota a 500 banchetti, ha dichiarato. Ma come tradizione vuole c'è anche un altro bilancio, quello stilato dalle forze dell'ordine relativo a scippi e merce sequestrata. Ovvero tre ordini del quest'ora lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, nei confronti di venditori extracomunitari senza permesso di soggiorno, quattro fogli di via cittadini italiani, tutti campani, con precedenti penali, 4.000 capi di merce varia sequestrata, in gran parte perché merce contraffatta, 150 contravvenzioni per divieto di sosta e ostacolo alla circolazione. Le denunce per borseggio, pari a 15, sono comunque in calo rispetto alle edizioni precedenti. Colta con le mani nel sacco, meglio dentro la borsetta, una donna originaria della provincia di Salerno che aveva rubato un portafoglio, contenente circa 100 euro e numerosi documenti. La donna è stata denunciata a piede libero. E ora apriamo la pagina dello sport. Dopodomani il Pescara, tempo permettendo, tornerà in campo contro la Fiorentina, ma sono momenti particolarmente importanti sul fronte del calcio mercato. Pescara che ha già messo a segno tre colpi in via ufficiale e poi sono in arrivo per l'attacco Girardino e per il centrocampo l'argentino Cubas in servizio. Il Pescara e Alberto Girardino sono vicinissimi. Il DS Leone e il presidente Sebastiani sono pronti a confezionare il regalo più gradito per il tecnico Oddo che ha indicato proprio l'ex campione del mondo, nonché ex compagno di squadra nel Milan e nella nazionale dell'allenatore del Delfino, come il rinforzo principale per l'attacco. La trattativa ha avuto un'ulteriore accelerazione ieri sera. Girardino è prossimo a rescindere il contratto che lo lega all'Empoli, società nella quale non si è espresso al meglio. Zero gol in 14 presenze, solo 5 da titolare. L'attaccante di Biella potrebbe recuperare proprio in arrivo all'Adriatico la sua vena realizzativa. A meno questo potranno sperare i tifosi pescaresi che, una volta formalizzata l'operazione, potranno sognare una rimonta e griffata dai gol del Gila, per cui è pronto un contratto fino a giugno, prolungabile in caso di salvezza. Praticamente fatta anche per il centrocampista argentino Adrian Andres Cubas. Importante l'opera di intermediazione possa in essere dall'agente Alessandro Moggi. Il giocatore classe 96 arriva dal Boca Junior in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Si tratta di un prospetto interessante, già opzionato dalla Juventus, nell'operazione che aveva riportato in Argentina Tevez. Il giocatore ha salutato i tifosi argentini sui social e a breve sarà in Italia. Ieri ufficializzati il prestito fino a fine stagione del portiere Mirko Pigliacelli al Trapani e la cessione a titolo definitivo al Torino del Baby Francesco Mele. Davide Vittorini è prossimo alla cessione in prestito in Serie B alla Ternana, operazione che potrebbe concretizzarsi quando il Delfino avrà messo le mani su Faraoni dell'Udinese, visto che Fiamozzi, destinato al Frosinone, sta sfumando. Intanto tra un paio di giorni sarà anche tempo di calcio giocato. Per il match con la Fiorentina, ieri il tecnico Oddo ha fatto le prove generali per la difesa 3 nell'amichevole col San Nicolò, trio composto da Coda e i nuovi Bovo e Stendardo. Zampano e Crescenzi girano sulle fasce, vista anche la squalifica di Biraghi. Dava adottare le condizioni di Memushai, ieri per lui differenziato, mentre Verre è stato messo K.O. dall'influenza e se sarà recuperato non partirà comunque titolare. Senza il capitano, Brugman, Cristante e Ben Ali potrebbero essere i tre interni, con Bruno pronto all'occorrenza. In avanti certo Caprari, per l'altro posto ballottaggio tra il neoattaccante Cerri e Pettinari. In maltempo ha condizionato il lavoro quest'oggi del Pescara, che al centro sportivo del Poggio degli Ulivi ha svolto essenzialmente lavoro in palestra. Lavoro comunque differenziato per Pepe, Fornasier, Ghiomber, Mitriza, Baibach e Verre, che dunque se non altro ha recuperato dall'influenza. Lavoro a pieno regime per Memushai, che ieri invece non aveva preso parte alla partitella. Stop ancora per Zuparic, sempre a causa della febbre. Per quanto riguarda la situazione dello stadio, in vista della gara con la Fiorentina, al momento un piccolo strato di neve sul terreno di gioco. Spalti accessibili, ma la preoccupazione più grande arriva dal gelo previsto nelle prossime ore, che sarà evidentemente monitorato. Oggi, prima della seduta di allenamento, ha parlato uno dei volti nuovi del Pescara, il neo difensore Cesare Bovo. Le prime impressioni sono state buone. Io sono contento di essere arrivato. Ho trovato un ambiente positivo, molto familiare e comunque un gruppo di ragazzi che ha voglia di fare un gran girone di torno. Quindi io mi aggiungo a loro, mi accodo e c'è tanta voglia di lavorare per migliorare la nostra classifica. Stimoli di rimettermi in gioco. Purtroppo arrivo da sei mesi iniziati benissimo e poi disastrosi calcisticamente parlando e a 33 anni non mi sento assolutamente alla fine, anzi ho voglia di giocare, e sono venuto qui per rimettermi in gioco, di aiutare la squadra, cercare di dare una mano e credo che l'obiettivo comune sia chiaro. Sono passato da giocare sempre a non giocare più. Purtroppo sono scelte che non saprei rispondere, sono scelte tecniche e societarie. Questo non lo posso sapere e onestamente non mi interessa neanche più. Ho accettato con entusiasmo questa chiamata e ho voglia di dare il mio contributo perché comunque la squadra vuole salvarsi, sa che comunque non è una cosa facile ma non è impossibile. Con il lavoro possiamo arrivarci solo stando tutti insieme uniti e crederci che questo rito sia fondamentale. Io fisicamente bene, ovviamente l'ultima partita giocata è stata, a parte la Coppa Italia che abbiamo giocato con il Pisa, è stata qui a Pescara, quindi mi sono sempre allenato, non ho avuto problemi di nessun tipo e ovviamente la partita è l'allenamento migliore però a livello fisico sto bene. C'è da lavorare perché c'è da lavorare in tutti i reparti e in tutte le fasi secondo me sia in una fase difensiva che in una fase offensiva. Bisogna capire quello che non è andato nel giro dell'andata e cercare di cambiarlo. Scendiamo in Lega Pro, il Teramo la prossima settimana tornerà a lavorare per preparare la ripresa del campionato, comunque lontana, il prossimo 22 di gennaio. Sul fronte mercato non arrivano buone notizie perché nell'ultima ore sono sfumati due giocatori che interessavano, ovvero Berardocco e Ferretti. Luca Berardocco non sarà un giocatore del Teramo. Il centrocampista abruzzese ha lasciato come previsto la San Benedettese ed ha firmato per il Padova restando nel girone B e ritrovando l'ex compagno di squadra ai tempi della Carrarese Dettori. Un altro potenziale obiettivo bianco-rosso sfuma anche per il reparto d'attacco. Si tratta di Andrea Ferretti che lascia il Trapani e la Cadetteria e ieri sera ha firmato per la Feralpi Salò. Insomma qualche problemino in fase di decollo del mercato in entrata per il Diavolo. La sensazione però è che essendo la rosa piuttosto abbondante sarà possibile affondare operazioni di acquisizione di giocatori solo dopo che saranno effettuate alcune in uscita per liberare anche spazio nel monte stipendi della squadra. Nelle prossime ore si attendono sviluppi ufficiali sul fronte Luca Forte e sul fronte Jefferson. Il primo è destinato al Carpin Serie B con l'intermediazione del Pescara, proprietaria del cartellino. Circa il secondo fronte, ieri la società ha cercato la quadra per la risoluzione del contratto incontrando in sede l'agente dell'attaccante brasiliano che resterà un rimpianto. Jefferson non è un giocatore di assoluto valore ma gli infortuni sono troppo condizionanti. Confermato il ribaltone di intenti sul fronte della difesa, in lista di sbarco finisce Filippo Capitanio mentre Caidi è destinato a restare in bianco-rosso. Dopo attenta riflessione la società di Patron Campitelli si è convinta di far partire un giocatore che per quanto voluto dal tecnico Zauli non ha convinto fino in fondo mentre Caidi ha dimostrato nel tempo grande affidabilità. Nella casella delle uscite confluiscono anche Manganelli, Orlando e la delusione Sales mentre resterà Altobelli. In entrata interessa il jolly di difesa, l'ex Savona e Pistoiese Niccolò Antonelli. In mediana dovrebbero andare via altre delusioni come Davide Peterman e Demetrio Steffè. In attacco neanche Antonio Croce è certo di restare. Sul fronte entrate resta vivo l'interesse per Niccolò Romero della Feralpi Salò più di un pensierino, il DS Bolla lo sta facendo per Andrea Razzitti della Piacenza. Non dispiace neanche Pietribiasi che a Pordenone ha trovato finora poco spazio. È tutto anche per questa seconda edizione del TG6. La prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.